Grazie Presidente. Quello che discutiamo oggi è un provvedimento importante, che è frutto di un lavoro lungo, faticoso per certi versi, che è arrivato al termine anche grazie a un rapporto virtuoso tra il Governo e il Parlamento, fatto di momenti più semplici, altri difficili, ma di un dialogo costante, per il quale voglio ringraziare il Governo, che ha portato a un risultato appunto importante. È un provvedimento che ha dentro tante cose, ma il cui cuore è la costruzione di un sistema innovativo di tutele per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo dal vivo. Un sistema innovativo che ha il merito di affermare un principio che dovrebbe essere scontato, ma che il nostro Paese purtroppo fin qui non è stato, cioè che chi fa cultura è prima di tutto un lavoratore. Detta così sembra banale, ma appunto per le norme, per la mancanza di tutele e di diritti in cui hanno vissuto per decenni queste lavoratrici e questi lavoratori, in Italia così non era. E con questo provvedimento noi in qualche modo riconnettiamo idealmente i tanti articoli della nostra Costituzione che parlano della centralità del lavoro, a cominciare dal primo articolo, con l'articolo 9 della nostra Costituzione, affermando appunto un principio semplice che per promuovere davvero la cultura bisogna prima di tutto tutelare le lavoratrici e i lavoratori che in questo settore operano. Quello della necessità di tutelare i diritti dei lavoratori è un principio valido sempre, ma permettetemi di dire, lo è forse ancora di più in questo settore, perché un Paese dove la cultura è diffusa e forte è un Paese migliore, un Paese in cui la democrazia è più forte. Ma perché questo accada davvero, perché sia vero? C'è bisogno che la cultura sia libera. E se la cultura è precaria, se i diritti e le tutele dei lavoratori sono negati, quella libertà corre il rischio di diventare non una condizione riconosciuta a tutti, ma un lusso per pochi e quindi mettere in discussione quel principio di cui parlavo. Oggi con questo provvedimento noi riconosciamo lo specifico di una professione, anzi di tante ormai professioni molto particolari. Ne hanno parlato nel dettaglio le relatrici, Gribaudo e Carbonaro, che ringrazio per il lavoro che hanno fatto. Uno specifico che aveva bisogno di un sistema di tutele disegnato su quelle specificità. Noi non potevamo, come anche ci è stato detto da alcuni, applicare le misure già esistenti, già previste come elementi di tutele ai lavoratori di questo settore, perché in realtà noi siamo di fronte a qualcosa di differente. Noi cosa facciamo nella sostanza con questo provvedimento? Riconosciamo il fatto che quei lavoratori non stanno lavorando solo nel momento in cui c'è un evento, sono su un palco, ma che anche i momenti di studio, di creazione, di ideazione, di preparazione di quel momento sono da considerare lavoro e quindi in quanto tale devono essere retribuiti e devono essere considerati anche ai fini del raggiungimento del trattamento pensionistico. E lo facciamo attraverso appunto uno strumento innovativo che abbiamo chiamato indennità di discontinuità. Ovviamente non è tutto risolto e noi dobbiamo, nel momento in cui rivendichiamo appunto un provvedimento importante, riconoscerlo, perché questa è una legge delega. Si è scelto giustamente, a mio avviso, questo strumento che si è sovrapposto a un lavoro parlamentare che era già iniziato anche per garantire che si potesse arrivare al termine di questo lavoro, però molto dipenderà da come il Governo redigerà i decreti attuativi di questa legge delega. E quello sarà un momento importante, esattamente come un momento importante sarà la prossima legge di bilancio in cui noi dovremo garantire risorse necessarie per far sì che quello che abbiamo scritto in questa norma abbia davvero un effetto sulla vita di tante centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori. Io credo sia importante che non si interrompa un metodo, che appunto è stato quello dell'incontro, del confronto e del dialogo che ha portato a questo risultato, perché se noi siamo arrivati fin qui è anche, anzi direi forse soprattutto per quel metodo, anche perché noi veniamo da anni atroci per questo settore, ormai sono quasi tre anni. Sono stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, appunto come è stato ricordato anche oggi, appena c'è un problema vengono stigmatizzati ingiustamente come un pericolo i lavoratori e le lavoratrici di questo settore. Sono stati appunto i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Io ricordo le primissime riunioni durante il primo lockdown, ovviamente online, ancora non eravamo nemmeno abituati a quegli strumenti che oggi sono diventati usuali nella nostra attività politica. incontri con appunto rappresentanti di questi settori che ci chiedevano sostegni immediati per affrontare la crisi, ma non si limitavano a questo, ci chiedevano sostegni ma anche riforme, che non era scontato, perché nel momento della massima difficoltà non si sono limitati appunto alla richiesta di una soluzione emergenziale, ma hanno immaginato e chiesto alla politica di rifondare e ripensare l'intero sistema normativo che regge e regola questo settore. E io credo appunto questo sia uno degli effetti più preziosi di questo percorso che noi abbiamo alle spalle, cioè una unità, un'unione tra lavoratrici e lavoratori che non si sono limitati a fare una battaglia per i loro diritti, ma sono diventati i protagonisti del processo legislativo, perché queste norme noi le abbiamo scritte insieme a loro. Sono state scritte anche se non soprattutto da loro e oggi nel momento in cui noi siamo chiamati ad approvarli siamo convinti che siano e che saranno delle buone norme anche perché sono state concordate e scritte insieme a quelli che ne subiranno gli effetti. Ecco, io a quelle lavoratrici e quei lavoratori, ovviamente oltre a ringraziarli, voglio dire di non fermarsi, perché in un settore che in questi anni era stato molto diviso, che aveva vissuto di una rappresentanza molto parcellizzata, invece ha trovato una forte sintesi e ha saputo diventare un soggetto unitario, che si è relazionato nel modo giusto alla politica e ha portato e ha ottenuto dei successi. Se oggi noi siamo qui è grazie a quei lavoratori, penso appunto a quelle prime riunioni con la musica che gira, con Unita, con i bauli, con le organizzazioni sindacali, con tutte quelle realtà che abbiamo conosciuto in questi momenti drammatici e che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui. Oggi è un momento importante, lo dicevo all'inizio per noi, perché appunto mettiamo un punto a un lavoro di più di due anni e lo facciamo ottenendo un risultato positivo. Dobbiamo, credo, nel momento in cui lo rivendichiamo, però essere anche consapevoli che in questi due anni qualcosa si è perso, anzi molto si è perso, perché tante di quelle lavoratrici e tanti di quei lavoratori hanno smesso di fare questo mestiere. Perché la crisi ha portato anche a questo, al fatto che molti hanno smesso, che molti luoghi della cultura, piccoli teatri, live club, luoghi vari, dove si faceva cultura, hanno chiuso e probabilmente non riusciranno a riaprire. Questo non è un dramma solo per chi ha dovuto rinunciare al proprio progetto di vita, alla propria passione, al proprio lavoro, ma significa anche il rischio di desertificazione culturale per il nostro Paese. È un problema per noi, non solo per loro, è un problema per le istituzioni. Allora io credo e spero che queste riforme che noi oggi appunto discutiamo e che credo e spero approveremo, in qualche modo aiutino anche a ritrovare la speranza a chi ha smesso di fare questo lavoro, magari a ricominciare a farlo in una condizione appunto di maggiore certezza, sicurezza, tutele e con più diritti e che anche da questa occasione cresca la consapevolezza in tutti noi, nelle classi dirigenti del Paese, che la forza del nostro Paese e la capacità di uscire, diciamo, migliore, come dicevamo all'inizio di questa pandemia, dalla fine di questa pandemia, è anche legata dalla capacità di riannodare quel filo spezzato in questi anni tra cultura e lavoro. Ecco, io penso che noi oggi facciamo un primo passo importante e che però abbiamo il dovere di dire a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che non ci fermeremo e che insieme a loro continueremo a cercare di dare a questo settore le riforme che merita. Grazie.